eccoci qua a brontolo oggi la zia festeggia 85 anni tanti auguri zia sei contenta come ogni anno ti ho portato un regalo sta attenta di aprirlo metti via quel fazzoletto dai pesa un po e ma gira gira la borsa ecco dai tira tira fu ecco isa non c'è un ruolo di tasco a fare una bomba eh oh c'è lì sì un uccello per gli amanti degli uccelli eccolo qua ti piace sì grazie dammi un bacino dai ola ti piace più la carta mi fa a te sempre sul frigorifero sempre sul frigorifero non so ma ti piace sì gonfio la televisione è staccata sul frigorifero eh dove vai mettere il nostro frigorifero sul tavolo che sono i fiori eh qua c'è il dolce pale o pane alla banana ricoperto di nocci croccanti al forno buonissimo allora zia un'ultima cosa eh abbiamo chiesto ai tuoi fan di farti gli auguri no? sì di mandarti un biglietto di auguri una roba così ah c'è lì pensi che qualcuno ti abbia mandato qualcosa? eh non so non credo ecco quindi cosa si può dire non sono vergognosi ah no c'è lì può dire niente ognuno ha i suoi impegni e le sue pensative pensano che va bene così e va così eh non si può pretendere mi fa anche a me non si può pretendere dei fan di youtube proprio un bel niente tre anni che facciamo i video e neanche 20 centesimi per una cartolina o una lettera niente allora lascia perdere lascia perdere eh è meglio meglio lasciar perdere meglio perdere che guadagnare qualche volta eh quindi tanti auguri zia di questi 85 anni grazie e ancora altri 85 è sicuro? eh ci arrivo ancora un mese sono brava se un giorno come ieri 100 zia 100 anni eh sicuro quella roba eh ciao ciao e vuoi che mi tenga 100 anni? ciao 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 ciao